sabato santo è il giorno del silenzio dell'attesa attendiamo di proclamare questa sera nella veglia pasquale che gesù è risorto il silenzio però non è il vuoto non è il niente oggi la società moderna questa idea il silenzio è l'occasione per riflettere per entrare dentro nella nostra interiorità e nella nostra interiorità capire chi siamo cosa vogliamo gesù nel sepolcro non è fermo non fa nulla anzi discende negli inferi libera i giusti del popolo eletto e di tutti i popoli dalle catene che li tenevano appunto legati e apre per loro la porta del paradiso ecco che allora il sabato santo diventa per noi un'occasione di riflessione un'occasione in cui ci diciamo signore la tua morte si apre alla vita e noi ci apriamo la vita in questo momento di sofferenza di epidemia in questo momento di dolore il silenzio può far male eppure nel silenzio siamo chiamati a cercare la luce della speranza uomini e donne di buona volontà riempiono questo silenzio con gesti carichi di umanità e di fede di carità di amore trasformiamo il silenzio in amore e vinciamo con l'amore il silenzio assordante del nulla della superficialità buon sabato santo questa notte la veglia pasquale annuncerà che il signore è risorto e noi con lui l'ora del venerdì santo l'ora della morte non è l'ora del presente il presente è l'ora della pasqua la pasqua è la luce senza fine che ci avvolge perché l'amore vince la morte così attendiamo la pasqua